Ben tornato sul mio canale. Oggi è il fine settimana, domenica 6 marzo 2022. Spero che tu abbia una bella giornata e ti rilassi dopo una settimana difficile. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Vergine. In pieti, sotto effetto del sole e di Nettuno. Strano gioco planetario per voi, sotto tiro del sole e di Nettuno in posizione ostile, fortunatamente ammorbiditi dal buon Giove, che anche all'opposizione ha un occhio di riguardo per voi. Dunque nessuna vieca intenzione nei vostri confronti, solo un po' di confusione nei tempi e nei ruoli. È casomai il vostro carattere sospettoso a circondarvi di ombre. Un invito a sorpresa suggerisce di presentarvi con un dolce di pasticceria e un bel mazzo di fiori. Non siate avari. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Singli in pena e in baglia della tristezza e della solitudine. Grinta e coraggio non vi mancano, se riuscirete a prendere alcune iniziative potreste finalmente realizzare un progetto che vi sta a cuore. Riservate delle premure alla persona amata, la pazienza e la dolcezza oggi vi faranno un gran bene. Chi crede di poter fare a meno di amici e collegi isolandosi sbaglia due volte, oggi è proprio il giorno di coltivare questi rapporti e di migliorarli. Oggi buone occasioni per parlare con qualcuno che non vedete da tempo, in fondo anche voi non vi siete più fatti vivi. Cambiamenti di umore. Pigrizia. Lavoro a rilento. Attento alle bugie. Se devi firmare un contratto, sarà meglio non farlo prima di due settimane. Sarai particolarmente geloso, non lasciarti condizionare dalla gelosia e mostrati affettuoso. Serata con qualche contrattempo, meglio restare a casa se non trovi adeguata compagnia. Tempo di riflessione, meditate a fondo tutte le vostre giornate, la loro impostazione, il vostro modo di vivere. Questo servirà a fare chiarezza in voi dopo un periodo di stress in cui vi sentite particolarmente stanchi e in parte avviliti. Potreste aver bisogno di tutta la vostra forza per riconoscere che una vostra storia extra del passato è stata più importante per voi di quanto voi stessi pensiate. Cercate di coltivare buone amicizie, passate meno tempo al computer o al cellulare e curate i vostri rapporti con gli altri in modo da sentire il calore delle persone che vi vogliono bene. Una persona vi segue con il cuore e stravede per voi, sarà molto difficile farlo venire fuori allo scoperto, del resto nemmeno voi vi accorgete di lui. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui. Dovete tenere i piedi ben piantati a terra in questa giornata, non dovete lasciarvi offuscare dai sentimenti che provate per una persona vicina a voi. Il lavoro in tempo di crisi deve sempre venire prima di tutto, per fortuna o purtroppo. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate piuttosto di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Godete della stabile presenza di urano se siete nati nella seconda decade, e ricordiamo che il pianeta vi terrà felice compagnia fino all'anno 2026 toccando tutte e tre le decadi verginei. Si innalza ancor più il livello della vostra lucidità mentale diventando finissima intelligenza, si creano, inoltre condizioni positive per nuove conoscenze che avranno poi tutta l'aria di tramutarsi in affettuose amicizie. I nati della terza decade però subiscono il corruccio di Nettuno, dovranno dunque fare maggiormente attenzione nelle loro performance sportive, specie se praticano sport che mettono in moto gli arti superiori e quelli inferiori. Tari vergine, mettete da parte la solitudine e le delusioni. Guardate al futuro con ottimismo e scrollatevi di dossi e dubbi e le ansie del passato. Rimettetevi in pista con ottimismo. Sul lavoro sentite la creatività stimolata, ma siete in attesa di risposte e conferme che tardono ad arrivare. Segno della Vergine molto interdetto al punto che, come ho spiegato in altre occasioni, vorrebbe cambiare tutto. In realtà questo è un cielo che porta molte responsabilità in più da una parte e dall'altra, forse proprio perché qualcuno è invidioso del tuo successo, qualche problema. Lasciate che gli altri pensino quel che vogliono. Questa giornata dovrà esprimere per voi, tutta la gioia e la serenità che non avete potuto avere in precedenza. Non sentitevi in colpa per questo. È parecchio tempo che non provate sensazioni di pace e serenità, quindi vi meritate una tregua, ma soprattutto, vi meritate di poter imparare a convivere con certi pensieri, non lasciandovi sopraffare. L'amico Plutone vi sorride con aria mesta, indicandovi Marte e Venere che stanno preparando le valigie. Poco importa, per voi le cose non cambieranno granché, semplicemente anziché supportarvi sul fronti del cuore metteranno la loro energia a servizio sul fronti del lavoro e della salute, i vostri pallini. Ininfluente e indifferente anche la luna in ottava casa, promette qualche guadagno ma poi non se ne fa nulla, bella forza, se non andate in tabaccheria ad acquistare almeno un biglietto o a giocare una schedina, la dea bendata con voi non avrà possibilità alcuna. Amore ed Eros L'amore è il sogno che preferite, triste la sensazione di essere incompresi. Magari pensate ancora a qualcuno che ormai fa parte del passato, ma attenti a non farvi illusioni, non ci sono speranze di un replay. Severi con i figli, misteriosi con il partner, che subito si insospettisce paventando tresche, con tanto di diamante nascosto sotto il letto. Ti piace dimostrare il tuo sentimentalismo, non hai paura di essere esagerato con il tuo partner, ma vuoi essere compreso di più. Sei alla ricerca dell'amore vero e sai che non starà mai dietro l'angolo. Ancora un altro giorno e poi anche la luna diventerà completamente positiva. Illuminare ovviamente non vi ha certo fatto grossi danni, ha solo tolto qualche freccia al vostro arco. Da domani potrete recuperare una più consistente sicurezza, specie se appartenete alla prima decade virginia. Conquisti inattese sono alle porte, non vi tirate indietro con la solita e noiosa timidezza, atteggiamento dietro cui tante volte vi nascondete. Lavoro e denaro Il vostro vero amore è il lavoro e se anche oggi il capo vi lancia un sosper che c'è qualcosa di impellente da fare non direte certo di no. Creatività scalpitante ma frenata dalla paura di farsi travolgere, tra razionalità e intuito ingaggiate un furioso braccio di ferro. Il lavoro risulta troppo impegnativo rispetto al tempo che avete a disposizione? Potete valutare se è il caso di continuare o se è meglio cambiare strada. Sarà un bellissimo team Venere Marte Plutone quest'oggi a darvi il giusto raziocinio per comprendere una situazione delicata che si è creata in ufficio e provare a dare anche le soluzioni che convengono. Benessere Rispetto alla cura che ponete nel fitness, oggi i risultati appaiono deludente ma dovreste tener conto del periodo difficile che vi lasciate alle spalle. Tosse e doloretti di stagione, ma oltre non si va. Con un maggiore senso di responsabilità dovreste mettere da parte qualche impegno meno impellente per occuparvi con maggiore continuità della vostra salute, approfondendo quel piccolo disturbo che vi dà a noi. Per lei, la realtà vi intristisce e vi imprigiona, almeno lasciatevi andare al sogno, non costa e non comporta rischi. Per lui, finanze ai minimi storici ma se il lavoro tiene raggranellate un fondo di sicurezza, l'obiettivo non è un castello e nemmeno un'auto sportiva da collezione, puntate alla serenità e non faticherete a raggiungerla. Colore delle emozioni, tortora. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto. Grazie per aver guardato il video.